Arriva il primo punto contro il servizio nel match Che scambio che hanno giocato, alla fine sbaglia Grandissimo, dritto, lungo linea E arriva allora il break Si è aperta lo scambio con il dritto incrociato Finge molto bene dopo il servizio A zero arriva il break di Nali A zero Nali Non può sbagliare Ancora una volta fa correre la share up Clamoroso dritto nella share up Queste le statistiche Zero vincente in Ali Sembra un pochino Una statistica La palla passa, colpo fortunatissimo Scambio fantastico E' in campo L'accelerazione con il rovescio lungo linea Vicente di Sharapova Col servizio Grandissimo punto Uno di più Pazzesco rovescio lungo linea Rovescio lungo linea Vincente Grandissimo dritto lungo linea Colpito la palla Colpito la palla Rovescio lungo linea La risposta di Nali Si ferma in campo Si ferma in rete Si ferma in rete Dritto della Sharapova Se ne va in rovescio di Nali Grandissimo rovescio lungo linea La prima se ne va Stecca la risposta Nali Fa segno che la palla è out E' sta attaccando Stecca la risposta Stecca la risposta Stecca la risposta Stecca la risposta Doppio fallo Doppio fallo Grande rovescio lungo linea Lo schiaffo al volo di Nali Dopo un bel Prima al centro Sbaglia tutto Nali E Sharapova chiude Il secondo set Primo punto del terzo set Per Nali 70% di punti Con la prima 52% Con la seconda Nelle statistiche Sono tanti gli errori gratuiti Ma in realtà il livello E' stato piuttosto alto Break per parte evidentemente Nali 50% di prima in campo Secondo doppio fallo Consecutivo Grandissimo rovescio incrociato E' venuta fuori Una palla corta Molto insidiosa La partina di Grandissimo colpo Da sotto la rete Grandissima accelerazione Da un metro fuori dal campo Che va a colpire la riga Il secondo L' servo Questa sera Perfetto Qui è Questa è Il verso Questa è Questa è scambio fantascientifico vinto la cerapola che ha chiuto gran dritto pronetto al volo che non riesce tieni a zero sbaglia colpo e doppio fallo che game grande recupero a Sharapova ma chiude Nalik chiude Sharapova è vincente il dritto in avanzamento lungo linea 15-0 gran dritto in corsa lungo linea con il doppio fallo da lì consegna a Maria Sharapova il match 2-6-7-6-6-3 super sport grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti